Eccoci a noi, siamo con l'autore del primo gol Gigliotti. Descrivici come è andata la partita. Buonasera, la partita è stata una bella partita, combattuta da tutte e due le parti. Ho fatto un bel gol. Da oltre 30 metri, complimenti. Ci tenevo a dirlo, però il merito va a tutti i miei compagni. Obiettivi stagionali? Salvezza. Salvezza tranquilla. Siamo una squadra nuova in questa categoria, l'obiettivo nostro è divertirci e salvarci. Ora siamo con il vicepresidente dell'Atletico Belvedere, Salvatore Carvelli. È stata una bella partita, votevamo fare di più. Purtroppo abbiamo preso un gol evitabile. Niente, alla fine la sconfitta è un po' immeritata.